Il progetto Serra Digitale serve a recepire suggerimenti, idee da parte di tutti i nostri stakeholder. La piattaforma che è stata creata grazie ai nostri consulenti, che voglio ringraziare Luca Bianchi e Marina Presta, serve proprio perché i nostri stakeholder ci suggeriscano, propongano progetti che possono essere realizzati direttamente da noi oppure attraverso anche forme di cofinanziamento, forme di crowdfunding che riguardano lo sviluppo di questo territorio. Ce ne sono già tre, per esempio, proposti dai nostri dipendenti, molto interessanti, li stiamo valutando, i progetti verranno votati dagli stakeholder, da tutti coloro che si registrano sulla piattaforma e al termine di queste votazioni, per esempio ho visto prima nella piattaforma ci sono dei progetti e votazioni scadono sul 7 di gennaio, a quel punto vedremo quali sono i progetti che hanno realizzato più, hanno trovato più voti da parte di tutti i partecipanti, li realizzeremo, stiamo verificando quali sono gli ambiti su cui intervenire. È un qualcosa di nuovo, è un qualcosa di nuovo che noi siamo orgogliosi di aver fatto perché, come dico sempre io, una società, e questo è il concetto di società benefit, accanto a quello che è un dividendo finanziario, un dividendo economico, deve avere anche un dividendo sociale, un dividendo etico. Ecco, la piattaforma della serra digitale, cioè dove germogliano le idee con il coinvolgimento di tutti, è uno dei percorsi che intraprendiamo per dare un senso concreto alla nostra attività di società benefit. Terrablate diventa società benefit perché vuole coniugare un modo diverso di fare impresa, cioè quello della condivisione del bene comune. Accanto a un obiettivo puramente economico, finanziario, quello che studiavamo a scuola, il capitalismo e ci facevano studiare all'università, oggi c'è un modo diverso di fare impresa, ma è un modo che coinvolge gli stakeholders, ma gli stakeholders chi sono poi? Sono i dipendenti, sono i fornitori, sono i clienti, è il territorio in cui si opera. La sostenibilità aziendale non è solamente l'attenzione all'ambiente, ma è proprio in questo modo diverso di fare imprese e di coinvolgere tutti. Ecco, la piattaforma, la serra digitale è uno degli strumenti per concretizzare il nostro percorso che è iniziato quando siamo diventati società benefit. Non abbiamo fatto solo la tanda di condoli, abbiamo fatto alle volte basse nel comune di Sovicille. Questi sono interventi che se ragioniamo in una logica strettamente di mercato, forse non le faremo, ma noi ragioniamo in maniera diversa. Faccio l'esempio, l'ho detto prima, a Radicondoli e a Sovicille insieme ci sono stati 160 mila euro, grosso modo, più o meno. Questo impatta nel nostro bilancio economico per circa 10-11 mila euro all'anno per 20 anni, a discorso di ammortamenti. Ecco, a me piace dire che Terreca Blatia ha distribuito un dividendo sociale al territorio di Siena di 11 mila euro all'anno, ma qui il discorso della società benefit. Non sono 11 mila euro 10-11 quello che è che diamo come beneficenza, come contributo a fondo perduto, ma se io vado a Radicondoli e ci porto la fibra, molto probabilmente già avvenuto, gli residenti di Radicondoli fanno l'abbonamento con noi. Quindi questo gap di 11 mila euro piano piano si restringe e questo è il compito della società benefit. Se io fossi una Ollus darei 11 mila euro al comune di Radicondoli all'anno avrei finito. No, io a livello economico do 11 mila euro al comune di Radicondoli e al comune di Sovicille perché questi crescano e quindi favoriscano certe situazioni. Motualmente Radicondoli ci aprirà qualche attività commerciale in più perché oggi c'è l'infrastruttura. Questo è lo spirito della società benefit accanto, cioè utilizzare lo strumento di una società privata e a uno scopo di lucro per raggiungere anche scopi che comunque sono sempre di lucro, economici, perché creano ricchezza al territorio. Stiamo ragionando e mettendo nel nostro bilancio di previsione di investire circa 300 mila euro per iniziative analoghe a quelle di cui parlavamo prima. Grazie